All'unanimità l'Aula approva una mozione presentata da tutti i capigruppo per attivare la legge regionale per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul lavoro. Prima seduta solenne del Consiglio regionale per la festa dell'Europa, l'Europa siamo noi e come Toscana ne costituiamo le radici più vere e più profonde, ha detto il presidente Mazzeo. Il fondo di solidarietà per Luana. La regione toscana manifesterà alla famiglia di Luana d'Orazio, come a tutte le vittime di incidenti mortali sul lavoro, la propria piena solidarietà, mediante l'immediata erogazione dei benefici previsti dal fondo di solidarietà. Lo prevede una mozione presentata da Marco Stella di Forza Italia e sottoscritta da tutti i capigruppo, che è stata approvata dall'Aula all'unanimità. L'atto di indirizzo impegna la giunta regionale anche a promuovere iniziative informative, tese a sensibilizzare sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e a favorire l'introduzione di nuove tecnologie utili a questo scopo nelle imprese della Toscana. Luana, 22 anni, madre di un bimbo di 5, ha perso la vita lunedì 3 maggio in un'azienda tessile a Oste di Montemurlo, dove lavorava da circa un anno, perché rimasta impigliata nel rullo di un orditoio. La regione toscana ha istituito il fondo di solidarietà alle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, con legge 57 del 2008, poi modificata nel 2009. Intanto sono orgoglioso, contento che il Fondo per Luana Dorazio, a firma Marco Stella, quindi di Forza Italia, che è stato portato in consiglia regionale, sia stato sottoscritto, quindi fermato da tutte le forze politiche e votato all'unanimità. Questo certamente non basta, non basta dare un piccolo contributo, così come previsto dalla legge regionale ai propri familiari per addolcire il dolore, se si può parlare di addolcire il dolore, perché quella tragedia lì in Toscana, in Italia e nel mondo non deve più ripetersi. Ecco perché l'appello della madre è da un lato a chiarire quello che è successo, credo che debba essere accolto con estrema serietà e si debba fare il prima possibile per accertare le responsabilità, qualora vi fossero delle responsabilità. E dall'altro mettere in campo tutte quelle azioni per far sì che gli incidenti sul lavoro non avvengono più. Da parte del Consiglio regionale di Forza Italia sono veramente contento che noi abbiamo fatto un piccolo passo per stanziare il fondo di solidarietà. Certo, questo non basta, ma è un segno di attenzione del Consiglio regionale. Tutti i gruppi all'unanimità hanno condiviso la proposta del Presidente Marco Stella di dar vita ad una raccolta di fondi. È un gesto concreto, significativo, poi a noi sta anche la responsabilità di contribuire nel quadro della normativa nazionale ad aumentare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro perché le cosiddette morti bianche, veder morire una mamma giovane, una ragazza, ma anche altri che nelle settimane scorse hanno perso la vita, altri ragazzi per questioni legate al mondo del lavoro, è insopportabile. È una responsabilità che ci portiamo tutti sulle spalle e che dobbiamo in qualche modo eliminare, nel senso che dobbiamo migliorare la normativa e quindi ridurre questi tragici eventi. Condividiamo la proposta, ma avremmo preferito che fosse allargata. Il Vescovo durante l'Omelia ha detto una cosa molto forte. Luana e tutti i morti sul lavoro sono tutti in piedi davanti a noi, che ci stanno chiedendo giustizia e tutela. Ecco, dovremmo fare probabilmente un fondo, istituire un fondo non soltanto per Luana d'Orazio, ma per tutte le persone che come lei sono tragicamente scomparse, soltanto per cercare di lavorare e di portare a casa uno stipendio e magari l'hanno fatto con passione e con dedizione per il loro lavoro. Dovremmo pensare a tutti loro e ricordarci che ogni perdita di vita umana sul lavoro è una grandissima sconfitta per la Toscana. Il Consiglio non poteva rimanere insensibile all'evento drammatico e anche alle parole sferzanti che ieri Monsignor Tardelli ha voluto rivolgere a tutte le istituzioni presenti ai funerali e che hanno detto una cosa molto chiara e inequivocabile. Luana e le altre vittime degli incidenti sul lavoro sono lì a guardarci, a chiedere conto, a chiedere responsabilità e impegno. Il Consiglio regionale non ha lasciato cadere nel vuoto questo invito, ma ha voluto subito proporre una risoluzione condivisa da tutte le forze politiche che impegni la Giunta proprio a lavorare al rafforzamento degli strumenti di contrasto per quanto riguarda appunto il tema della sicurezza, quindi di rafforzamento della cultura soprattutto della sicurezza, quindi molto da fare sul piano della formazione, su un concetto di sicurezza che non deve essere vissuto come onere ma come investimento anche nella qualità della produzione che le nostre aziende portano avanti. A questo poi si affianca un altro strumento che è stato introdotto dalla precedente Giunta ed è un fondo di solidarietà per i familiari delle vittime, in questo caso c'è anche un bimbo di pochi anni al quale il Consiglio e la Giunta vorranno certamente non far mancare il proprio sostegno, quindi nell'abbracciare la famiglia, nell'abbracciare tutte le famiglie delle vittime ovviamente vogliamo essere loro vicini con atti concreti, non con la retorica che in questi momenti forse abbonda, ma con atti concreti che possono essere davvero di conforto, anche se minimo, ma di conforto per il dolore profondo che in questo momento i familiari stanno vivendo e a loro ovviamente va il mio abbraccio. Noi abbiamo firmato quella proposta e crediamo che in realtà, lo abbiamo detto e lo proporremo, questa debba diventare anche strutturale perché molte famiglie si ritrovano in forte difficoltà dopo aver perso un proprio caro sul posto di lavoro e crediamo che in questo caso la Regione debba andare a supporto di chi ha bisogno perché ci dobbiamo ricordare delle persone che non ci sono più, non solo nel momento in cui vengono a mancare, ma anche per il futuro di quella famiglia, per il futuro dei propri figli e cercare di dare sollievo a quelle famiglie che sono fortemente colpite. Abbiamo fatto un minuto di silenzio all'inizio della seduta, io credo che debba rimanere a nostra memoria tutte le volte che succede un fatto così grave e dobbiamo però anche trasformare in propositivo cercando di portare un contributo a chi ne ha bisogno perché purtroppo è stato colpito da un lutto che non riporterà indietro assolutamente chi non c'è più ma che deve dare una mano a chi deve guardare anche al futuro. Sì, una tragedia immane di una ragazza, di una donna, di una mamma, prima ancora di una lavoratrice, è una tragedia e come tale bisogna non soltanto ricordare, non soltanto chiedere maggiore sicurezza ma si deve poter fare qualcosa di più, è il motivo per il quale anch'io in prima persona ho firmato l'atto condividendo la proposta del Presidente Stella perché si possa fare qualcosa istituendo questo fondo e cercando di dare un contributo anche economico a tutti coloro che si trovano poi nelle condizioni di difficoltà a causa di un decesso di un proprio familiare e allo stesso tempo per contrastare ovviamente le morti bianche sui luoghi di lavoro. Visappunto e rammarico sono stati poi espressi da Ilaria Bugetti del PD in riferimento alla decisione del Vice Presidente Stefano Scaramelli che presideva l'Aula in quel momento di non discutere una proposta di risoluzione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al comparto tessile. Bugetti, Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, aveva presentato l'atto insieme al Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni e ad altri consiglieri DEM. Abbiamo presentato, presentato a prima firmataria insieme al Presidente Sostegni una proposta di risoluzione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro legata alla recente tragica morte di Luana avvenuta in un'azienda di Montemurlo, vicenda che peraltro ha visto dichiarare da parte della Regione Toscana il lutto regionale. Questo atto non è stato messo in discussione ed era l'ultimo atto all'ordine del giorno perché la seduta è stata chiusa alle 13.03, peraltro una seduta che ha aperto stamattina alle ore 10. Abbiamo più volte prolungato i lavori di Consiglio di diversi minuti e questo secondo me era doveroso, dignitoso approvarlo poiché riguarda un tema importante come la sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Presidente del Consiglio che in quel momento presideva, Stefano Scaramelli, ha chiuso il Consiglio senza consentirci di discutere una proposta di risoluzione così importante che peraltro impegna la Giunta a continuare sui progetti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare a riprendere i corsi di formazione che sono stati sospesi a causa del Covid, a riprendere la cultura della legalità, della sicurezza, a stanziare risorse, a inserire nel nuovo piano regionale di sviluppo e ovviamente a coinvolgere le commissioni competenti. Ribadisco e ho un profondo rammarico e dissenso nel non aver consentito al Consiglio di discutere quest'atto in questo momento. Lo ripresenteremo il prossimo Consiglio ma è un atteggiamento che ritengo profondamente irrispettoso per il caso di Luana e per tutte le morti su luoghi di lavoro. Il Consiglio celebra la festa dell'Europa. L'Europa non è qualcosa di altro da noi ma l'Europa siamo noi e come Toscana ne costituiamo le radici più vere e più profonde. È un messaggio forte quello che ha lanciato il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nella prima seduta solenne dedicata alla festa dell'Europa. Un messaggio che fa proprio lo slogan coniato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen qualche giorno fa a Firenze. I care, we care. Lo abbiamo voluto con forza e ringrazio il Presidente Gazzetti e tutti i membri della Commissione Europa per dare un segnale, un segnale importante. Oggi abbiamo sempre più bisogno di Europa e tutto quello che noi oggi diamo per scontato, il ruolo che ha giocato l'Europa in questi anni. Un'Europa che è uscita dalla guerra più forte grazie alla capacità di persone che hanno creduto davvero a mettere insieme popoli differenti. Il manifesto di Vento Tene, Altero Spinelli, le parole di Schumann il 9 maggio 1950. Sono una rotta che noi dobbiamo provare a seguire sempre. L'Europa è luogo di opportunità, è luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. Certo, l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia. L'Europa è il nostro punto di riferimento, da un punto di vista anche concreto nella percezione della gente oggi che si parli di vaccino e magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale. O che si parli di Recovery Fund, qui veramente in positivo perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che è partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte, diventa l'elemento per la ripresa, la resilienza, la ripartenza del nostro Paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini, l'Europa è cruciale nella vita di tutti noi e sempre più deve essere un'Europa che si integra, che parla alla gente, sempre più un'Europa che le decisioni le prende come Europa dei popoli, non come Europa degli Stati. Durante la seduta è stato proiettato un videomessaggio del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Il 9 maggio rappresenta per ciascuno di noi, cittadini d'Europa, la celebrazione di un percorso di integrazione, di prosperità, di pace, che ci ha accompagnato per oltre 70 anni, mai come in questo momento risuonano attuali le parole in particolare di Robert Schumann, quando nel 1950 aprì la sua celebre dichiarazione e gli scrisse l'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme, ma si farà attraverso realizzazioni concrete, creando prima di tutto una solidarietà, di fatto, la forza di quelle parole, attraversa la nostra storia comune, ci indica la strada che dobbiamo percorrere. Anche quest'anno la ricorrenza della Festa dell'Europa coincide con un momento davvero complesso per le nostre comunità, per l'Unione Europea e per il mondo la drammatica crisi del Covid è stata un vero e proprio spartiacque e lo sarà anche in futuro, perché è un evento devastante, inatteso. Il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole, che specialmente negli ultimi 20 anni non ha fatto altro che produrre fratture, disuguaglianze nel nostro corpo sociale. Tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi, come cittadini, come decisori politici. La risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima. Mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Da questa legislatura il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di istituire un'apposita commissione permanente dedicata alle politiche europee. Bisogna dal nostro punto di vista partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa, perché sotto gli occhi di tutti le grandi prospettive legate al next generation, al recovery, passano proprio dalle indicazioni e dalle scelte fatte dal livello europeo. E se noi sui territori, nella fattispecie in Toscana, potremo essere in grado di cogliere tutte queste opportunità. Durante i lavori di questi primi mesi ci sono state molte interlocuzioni e mi piace mettere in evidenza come nel rapporto, ad esempio, sia con gli europarlamentari di tutte le espressioni politiche, ma anche con i territori, ascoltando ad esempio Anci e Upi, noi abbiamo raccolto spunti che pensiamo proprio per la concretizzazione e l'applicazione delle opportunità legate al next generation, noi ci auspichiamo, possano essere utili. Con il Presidente Gazzetti abbiamo iniziato in questi mesi un lavoro che ci porta a dare il nostro contributo, a capire quelli che saranno i fondi, quelli che sarà la politica dell'Europa e noi essere presenti e testimoni di quello che dovranno essere poi dopo gli investimenti che dall'Europa arriveranno all'Italia e di conseguenza verranno poi dopo riportati sulla Toscana, per cui siamo al lavoro, abbiamo fatto tante audizioni, abbiamo ampliato le nostre conoscenze e speriamo nel breve tempo possibile di poter essere a disposizione dei nostri concittadini per poter dare il nostro contributo. Grazie. Grazie.